La musica incalzante di Danny Elfman e la camera che scivola sulla cittadina di Winter River. Ed è con un brivido che accogliamo l'apertura di Beetlejuice, Beetlejuice, da fan di vecchia data del cult di Tim Burton, nonché da amanti della filmografia del regista. Perché infatti capiamo subito che è a noi che parlerà in prima battuta il film, questo ritorno che si affida tra l'altro a buona parte del cast originale da Michael Keaton a Winona Ryder, con delle new entry d'eccezione come William Defoe, Jenna Ortega e Monica Bellucci. Il cast è in gran parte anche presente al Lido di Venezia per l'apertura dell'edizione numero 81 della mostra internazionale del cinema, ed è un'anteprima questa di grande prestigio in attesa dell'uscita in sala a ridosso prevista per il 5 settembre. Un'anteprima accolta poi da meritati applausi al termine della proiezione stampa, perché infatti l'omaggio funziona, al di là di qualche problema di scrittura e di equilibrio. Ma partiamo però dallo spunto e dall'intreccio che ci hanno lasciato sensazioni contrastanti. Ci è infatti piaciuto l'idea iniziale di tornare ai personaggi iconici di Beetlejuice a distanza di tanti anni, per ritrovare dunque i Deeds e vedere come siano diventate le loro vite, dalla madre Delia che ancora insegue le sue pulsioni artistiche, alla figlia Lydia, la cui esistenza è sempre avvolta in quella l'unio scuro che avevamo amato negli anni 80, convogliato poi nella sua attività professionale. A loro si aggiunge poi una terza generazione di Deeds, qui rappresentata dalla figlia di Lydia, Astrid, tutte ovviamente raccolta nuovamente a Winter River. Lì, infatti, la ragazza scopre il plastico dei Maitland ed entra in contatto con il mondo del soprannaturale in modi inaspettati, aprendo così le porte anche al ritorno di Beetlejuice, che intanto è alle prese con l'unico essere che riesce a spaventarlo, ossia la sua ex moglie Delores. E sono tutte linee narrative che a tratti non trovano lo spazio e l'equilibrio necessario, quasi come se la voglia di aggiungere idee e spunti avesse un po' preso il sopravvento sulla compattezza narrativa. Ed è un difetto questo che emerge soprattutto nel secondo atto, per poi sfociare però con energia in un gran finale che rende giustizia alla potenza iconica dell'originale. Ebbene, abbiamo subito accennato a quello che ci è sembrato l'unico difetto di un film che nel complesso funziona. E lo fa in quanto commedia macabra con il gusto dark di Tim Burton che riemerge come in passato, e lo fa anche in quanto omaggio in grado di parlare ai fan dell'originale, con richiami continui e sensati che i conoscitori sapranno identificare e soprattutto amare. E lo fa ancora come evoluzione di quei personaggi a cui ci sentiamo legati e che ritroviamo con emozione. E questo in Beetlejuice Beetlejuice si nota più che in altre produzioni recenti del regista. Si nota infatti la voglia di costruire sequenze di grande impatto, e nel divertimento che proviamo, scorgiamo anche quello dello stesso Burton. Parallelamente, però, si percepisce anche la riflessione di un autore più maturo alle prese con personaggi che hanno abitato il suo passato, esplorandoli con curiosità a distanza di anni. Ed è una riflessione questa che riguarda loro ma in parallelo anche se stesso. Ed è un modo anche per ripensare alla sua vita e alla sua carriera dal punto di vista privilegiato dell'autore più maturo. È indubbio che il primo film abbia una forza iconografica incredibile, che abbia proposto al pubblico una sequenza da storia del cinema tra tutte la celebre e impagabile cena-ballo. E il timore era quindi che il sequel di Beetlejuice non riuscisse a rivaleggiare col suo predecessore su questo fronte. E seppur ovvio che qualcosa di quella potenza sia ancora inarrivabile, non mancano comunque grandi momenti anche in questo nuovo film. Ad esempio una sequenza vede protagonista Monica Bellucci, un regalo di Tim Burton all'attuale compagna, e un altro invece il Gran Finale, una cerimonia a ritmo di musica che vedremo sicuramente girare molto sui social, TikTok in primis. Insomma, a conti fatti un'operazione riuscita, un film compiuto al di là di qualche problema di gestione delle diverse linee narrative, ma soprattutto un film che i fan di Tim Burton e del primo Beetlejuice apprezzeranno di sicuro. E da estimatori noi non possiamo che esserne felici. Voi invece che cosa ne pensate? Attendete Beetlejuice Beetlejuice? Fatecelo sapere nei commenti.